poi che la morte induce il più grande dei mutamenti e se accade talvolta che il rimosso spirito in taluna circostanza ritorni e sia visto da chi ancora abita la carne apparendo nella forma del corpo da cui era rivestito altresì avviene che il nudo corpo privo di spirito cammini ed è attestato da quanti dopo aver incontrato taluno di essi sono vissuti per parlarne che tali risorte sanguisughe non nutrano più alcun naturale affetto ne ricordo ma solamente odio vi è più e noto come taluno spirito che in vita fu benevolo in morte diventi oltremodo malvagio a lì in una cupanotte di mezza estate un uomo che si era destato da un sonno senza sogni in una foresta sollevò il capo da terra e dopo aver fissato per alcuni momenti l'oscurità disse chatrin larue non disse altro non c'era nessuna ragione a lui nota per aver pronunciato quel nome l'uomo era alpin fraser viveva a saint helen ma dove abiti ora nessuno lo sa perché è morto uno che ha l'abitudine di dormire nei boschi senza nulla sotto se non le foglie secche e la terra umida e nulla sopra se non i rami dai quali le foglie sono cadute e il cielo da cui la terra è caduta non può sperare di vivere a lungo e fraser aveva già compiuto 32 anni ci sono persone a questo mondo milioni di persone che considerano quell'età un'età già avanzata sono i bambini a chi considera il viaggio della vita guardando dal porto di partenza l'imbarcazione che abbia coperto una considerevole distanza appare già vicinissima all'approdo seguente comunque non è sicuro che elpin fraser sia morto per una propria imprudenza era stato tutta la giornata sulle colline ad ovest di Napa Valley a caccia di tortore ed altra piccola selvaggina di stagione nel tardo pomeriggio il cielo si era rannuvolato e lui aveva perso l'orientamento e benché avesse solo da scendere a valle ovunque quando ci si perde la salvezza e a valle l'assenza di sentiari battuti lo bloccò a tal punto che la notte lo sorprese mentre era ancora nella foresta al buio incapace di farsi strada tra i boschetti di manzanitas e gli arbusti ormai confuso e sopraffatto dalla stanchezza si straiò per terra accanto alla radice di un grande madronio che cadde in un sonno senza sogni fu diverse ore più tardi nel cuore della notte che uno dei misteriosi messaggeri di dio alla testa dell'innumerevole schiera dei suoi compagni che percorrevano verso ovest alla linea dell'alba pronunciò la parola del risveglio all'orecchio del dormiente il quale si levò a sedere e disse un nome d'alta voce senza sapere perché e senza sapere di chi fosse alpin fraser non era proprio un filosofo né uno scienziato il fatto che svegliandosi da un sonno profondo nel cuore di una foresta avesse pronunciato quasi gridando un nome che non gli ricordava nulla e che difficilmente avrebbe ricordato non destò in lui alcuna illuminante curiosità che lo spingesse a investigare sul fenomeno pensò solo che fosse strano e con un piccolo brivido meccanico come in omaggio alla supposizione che la notte fosse fredda si distese nuovamente e si addormentò ma il suo sonno non fu più senza sogni gli sembrava di camminare lungo una strada polverosa e bianca nell'oscurità di una notte estiva dove la strada portasse e perché egli la stesse percorrendo non lo sapeva benché tutto sembrasse semplice e naturale come sovente avviene nei sogni perché nella terra al di là del letto le sorprese cessano di importunare e i giudizi sono sospesi presto arrivò ad un bivio dalla strada maestra si dipartiva una strada meno percorsa che aveva l'apparenza in verità di essere da tempo abbandonata pensò che doveva condurla in un luogo malvagio eppure la imboccò senza esitare spinto da qualche necessità imperiosa mentre camminava divenne consapevole che quella strada era infestata da invisibili presenze delle quali non riusciva a definirne la forma nella sua mente tra gli alberi che la costeggiavano poteva cogliere dei rotti sussurri incoerenti pronunciati in una lingua sconosciuta che però in parte riusciva a capire gli sembrarono espressioni frammentarie di un mostruoso complotto contro il suo corpo e la sua anima la notte era caduta da tempo ma l'interminabile foresta attraverso la quale camminava era illuminata da un debole bagliore che non aveva un punto di diffusione perché nella sua luce misteriosa nulla lasciava ombre una bassa pozza formata forse da un acquazzone recente nella cunetta di una vecchia carezzata incontrò il suo sguardo con un bagliore cremici si fermò e vi immerse la mano le sue dita si macchiarono era sangue sangue osservò allora che ogni cosa era macchiata di sangue l'erbaccia che cresceva rigogliosa ai lati della strada mostrava macchie sulle larghe foglie e le chiazze di polvere asciutta tra le carezzate erano punteggiate come da una pioggia rossa c'erano poi ampie macchie cremici che chiazzavano i tronchi degli alberi del cui fogliame gocciolava sangue simile a rugiada alpin fraser osservò tutto ciò in preda a un terrore che sembrava compatibile solo con il compimento di una naturale aspettativa mi sembrava che tutto ciò fosse la punizione per qualche crimine che benché consapevole della sua colpa non riusciva a ricordare esattamente la consapevolezza aggiungeva nuovo orrore alle minacce ai misteri di quanto lo circondava inutilmente cercò di ripercorrere nella memoria la sua vita per ricordare il momento del suo peccato scene di episodi gli si affollarono in tumulto nella mente un quadro cancellava l'altro o si mescolava nella confusione e nell'oscurità ma da nessuna parte riusciva a cogliere un barlume di quel che cercava il successo aumentava l'orrore si sentiva come uno che ha ucciso un uomo nel buio senza sapere chi fosse e perché la situazione era realmente terrificante la luce misteriosa splendeva come una minaccia tacita e terribile le piante malsane gli alberi rivestiti da una patina malinconica e funesta cospiravano apertamente contro la sua pace all'alto e tutto intorno a lui si udivano impressionanti sussurri e sospiri di creature palesemente non terrene non poteva resistere più a lungo e con un grande sforzo per rompere il sortilegio malvagio che legava le sue facoltà al silenzio e all'immobilità urlò con tutta la forza dei suoi polmoni sembrò che la sua voce si rompesse in un'infinità di suoni sconosciuti che balbettando e farfugliando svanirono nei lontani recessi della foresta e morirono in silenzio poi tutto torna come prima ma aveva dimostrato un accenno di resistenza e questo gli aveva dato coraggio disse non mi arrenderò senza essere stato ascoltato probabilmente su questa strada maledetta si aggirono potenze che non sono maligne lancerò loro una nota e un appello racconterò i miei errori le persecuzioni subite io un mortale privo di aiuto un penitente un poeta innocuo alpin fraser era poeta e penitente solo in sogno prese dal suo abito un libretto in pelle rossa la metà del quale era stato lasciato per appunti e scoprì di non avere una matita spezzò un ramoscello da un cespuglio lo intinse in una pozza di sangue e scrisse rapidamente aveva appena toccato la carta con la punta del ramoscello quando il basso selvaggio suono di una risata scoppiò da una distanza smisurata e crescendo di volume sembrò avvicinarsi sempre di più una risata senza anima senza cuore triste come quella di un tuffolo solitario sulla sponda di un lago a mezzanotte una risata che culminava in un urlo disumano vicinissimo che moriva gradatamente come se la creatura maledetta che l'aveva emesso fosse tornata nel mondo da cui era venuta ma l'uomo sentì che non era così che era accanto a lui e che non si era mossa una strana sensazione cominciò lentamente a impossessarsi del suo corpo e della sua mente non avrebbe potuto dire quale dei suoi sensi fosse stato colpito la sentiva piuttosto come una consapevolezza una misteriosa affermazione mentale di qualche schiacciante presenza qualche soprannaturale essere malevolo differente per natura dagli esseri invisibili che pullulavano intorno a lui e superiore a loro in potenza sapeva che era questo ad avere messo quell'odiosa risata e ora sembrava avvicinargisi la quale direzione non sapeva né osava pensarlo tutti i suoi terrori precedenti erano dimenticati o sommersi in una gigantesca paura che lo teneva del tutto asservito a parte questo aveva un solo pensiero completare il suo appello scritto alle potenze benigne che attraverso il bosco infestato avrebbero potuto liberarlo se gli fosse stata negata la fortuna dell'annullamento scriveva con terribile rapidità il ramocello intriso di sangue tra le dita non era stato sostituito ma nel mezzo di una frase la sua mano smise di servire la sua volontà le braccia si rilasciarono lungo i fianchi il libretto cadde a terra e incapace di muoversi o gridare si ritrovò a fissare il bianco viso nettamente tracciato e gli occhi morti di sua madre in piedi bianca e silenziosa negli abiti della sepoltura da giovane alpin frazer aveva vissuto con i suoi genitori a nashville nel tennessee i frazer erano benestanti con un ottima posizione in una società come quella che era sopravvissuta alla rovina della guerra civile i loro figli avevano avuto tutte le opportunità sociali ed educative del loro tempo e del luogo e avevano risposto alle buone compagnie e all'istruzione con modi gradevoli e menti recettive alpin essendo il più giovane e il meno robusto era forse un po viziato aveva il doppio svantaggio di una madre assidua e di un padre trascurato frazer era quello che nessun uomo del sud è dotato di mezzi è un politico il suo paese o piuttosto la sua provincia e stato esigevano da lui tempo e attenzione in maniera così pressante che era costretto a prestare alle richieste della famiglia un orecchio abbastanza indebolito dal tuonare dei capi della politica e dalle grida le sue incluse il giovane alpin dal canto suo era un sognatore indolente e piuttosto romantico in qualche modo più portato per la letteratura che per la legge professione alla quale era destinato quelli tra i suoi parenti che credevano nella moderna dottrina dell'ereditarietà avevano ben compreso che con lui il carattere del defunto Myron Byne un bisnonno materno era stato rivisitato dal tocco della luna i cui influssi avevano sufficientemente condizionato Byne nel corso della sua vita tanto da farne un poeta di qualche distinzione nell'America coloniale anche senza una specifica indagine era dunque evidente la circostanza che mentre un Fraser che non vantava orgogliosamente il possesso di una copia sontuosa delle opere poetiche dell'Avo stampata a specie della famiglia e da tempo esclusa da un mercato non favorevole era veramente un Fraser raro c'era tuttavia un'illogica diluttanza a onorare il grande defunto nella persona del suo successore spirituale helping era quasi sempre disprezzato come una pecora nera intellettuale che probabilmente in ogni momento avrebbe potuto disonorare il gregge belando in versi i Fraser del Tennessee erano gente pratica non nel senso comune in quanto non perseguivano fini sordidi ma provavano un forte disprezzo per tutte le qualità che non fossero consone ad un uomo una sana vocazione della politica per essere giusti col giovane Halpin si deve aggiungere che mentre in lui erano riprodotte abbastanza fedelmente le caratteristiche mentali e morali ascritte dalla storia e dalla tradizione familiare al famoso bardo colonizzatore la sua eredità del dono e della facoltà divina era puramente ipotetica non solo non si era mai saputo che onorasse la musa ma in verità non sarebbe stato capace di scrivere correttamente un solo verso neppure per salvarsi dalla morte del giusto è anche vero d'altra parte che nessuno sa quando un talento dormiente possa svegliarsi e mettersi a far risuonare la lira intanto il ragazzo era alquanto indolente tra lui e sua madre c'era la più perfetta sintonia poiché in segreto la signora era lei stessa una devota discepola del defunto nonché grande Myron Byne sebbene con il tatto che giustamente e generalmente si ammira nel suo sesso a dispetto dei calumniatori che insistono col dire che si tratta solo di astuzia avesse sempre avuto cura di nascondere la propria debolezza agli occhi di tutti tranne di quelli che la condividevano la loro colpa comune rafforzava il legame esistente tra loro se da bambino helthwin era stato viziato dalla madre lui certamente aveva fatto la sua parte per essere viziato quando raggiunse quel vigore che è proprio di un uomo del sud al quale non importa che via prendano le elezioni l'attaccamento tra lui e la sua bella madre che fin dall'infanzia chiamava Katie di anno in anno si fece più forte e più tenero in quelle due nature romantiche si manifestava in modo esemplare quel fenomeno trascurato ossia la preminenza dell'elemento sessuale in tutte le relazioni della vita un elemento che rafforza intenerisce e abbellisce perfino quelle di consanguineità i due erano pressoché inseparabili e non di rado da un osservatore straneo le loro maniere venivano scambiate per quelle di due amanti un giorno entrando nel boudoir di sua madre helping Fraser la baciò sulla fronte giocò per un momento con una ciocca dei suoi capelli scuri che era sfuggita a una forcina e disse facendo un evidente sforzo per restare calmo ti dispiacerebbe molto Katie se mi racassi in California per qualche settimana era malapena necessario per Katie rispondere con le labbra a una domanda alla quale le sue gote dal rossore eloquente avevano già dato una pronta risposta era ovvio che le sarebbe dispiaciuto molto e anche le lacrime che cominciarono a sgorgare dei suoi grandi occhi castani furono una inequivocabile conferma ah figlio mio disse guardandolo in viso con infinita tenerezza avrei dovuto saperlo che sarebbe successo sono rimasta sveglia a piangere in metà della notte perché durante l'altra metà il nonno Bain è venuto a visitarmi in sogno e stando in piedi accanto al suo ritratto giovane e bello come allora mi ha indicato il tuo appeso alla stessa parete quando l'ho guardato mi è parso di non riuscire a distinguere i tuoi lineamenti eri stato dipinto con un velo sul viso lo stesso che si usa a stendere sul viso dei morti tuo padre riderebbe di noi caro ma tu e io sappiamo che tali cose hanno un significato e poi ho visto al di sotto del velo dei segni di mani intorno alla tua gola perdonami ma noi siamo soliti non nasconderci nulla forse tu hai un'altra interpretazione forse significa che non andrà in California o forse vuoi portarmi con te bisogna confessare che questa ingegnosa interpretazione del sogno alla luce delle recenti rivelazioni non si confaceva completamente al piologico raziocinio del figlio almeno per il momento aveva la convinzione che fosse premonitore di un più semplice e immediato ma meno tragico disastro di quanto non lo fosse un viaggio sulla costa del Pacifico Happy Fraser ebbe l'impressione che sarebbe stato strangolato nel paese natio non ci sono terme curative in California riprese a dire la signora Fraser prima che il figlio avesse avuto il tempo di darle la vera interpretazione del sogno posti dove ci si possa ricoverare per guarire dai reumatismi e dalle nevralgie guarda le mie dita sono così rigide sono certe che mentre dormo debbono farmi un gran male tece le mani perché lui le potesse osservare quale diagnosi per il suo caso il giovane avesse pensato di nascondere sotto un sorriso lo storico non è in grado di stabilire ma sente il dovere di dire che le dita parivano meno rigide di quanto la donna affermasse mostravano scarse tracce del benché minimo spasmo doloroso ed erano state di rado visitate da un medico dato che la bella paziente desiderava una cura per malattie sconosciute il risultato di tutto ciò fu che di queste due strane persone che avevano una strana nozione del dovere l'una andò in california come richiedevano gli interessi di un suo cliente e l'altra rimase a casa in ottemperanza di un desiderio che suo marito era appena consapevole di aver espresso una notte buia mentre passeggiava a san francisco lungo una banchina helping fraser con una subitanità che lo sorprese e lo sconvolse divenne marinaio fu infatti drogato e portato a bordo di una bella nave che salpò per terre lontane né le sue sfortune ebbero fine con il viaggio ciè che la nave fu scagliata sulla riva di un'isola del pacifico del sud e solo sei anni dopo i sopravvissuti furono raccolti da una temeraria goletta mercantile e riportati a san francisco benché povero helping fraser non aveva perso l'orgoglio che l'aveva animato negli anni passati che ora sembravano lontani secoli e secoli non volle accettare alcun aiuto dai stranei e continuò a vivere insieme a uno dei sopravvissuti vicino alla città di saint helen e mentre aspettava notizie e denari da casa cacciava e sognava sparizione che stava di fronte al sognatore nel bosco infestato da fantasmi così somigliante eppure così diversa da sua madre era orribile non ispirava né amore né desiderio nel suo cuore arrivò senza alcun seguito di piacevoli ricordi di un passato dorato né gli ispirò alcun sentimento tutte le emozioni più squisite erano soverchiate dalla paura tentò di voltarsi e fuggire ma le sue gambe erano come di piombo non riusciva a sollevare i piedi dal suolo le braccia gli pendevano inerti lungo i fianchi gli rimaneva solo il controllo degli occhi che non osava spostare dalle vuote orbite dell'apparizione che sapeva essere non un'anima senza corpo ma la più spaventosa creatura che infestasse quel bosco un corpo senza anima in quello sguardo vuoto non c'era né amore né pietà né intelligenza nulla a cui fare un appello di misericordia un ricorso in appello non sarà accettato pensò con un assurdo richiamo al zergo professionale che rese ancora più orribile la situazione come la punta accesa di un sigaro può illuminare una tomba per qualche istante che parve tanto lungo da far incantire il mondo per gli anni ai peccati e tale da far sparire dalla sua coscienza la foresta infestata che con tutti i suoi segni e suoni aveva adempiuto il suo scopo in un mostruoso culmine di orrori l'apparizione a un passo da lui rimase ferma a guardarlo con la stolida malignità di un animale selvatico poi allungò le mani e balzò sull'uomo con terribile ferocia quest'azione liberò le energie fisiche di Halpin Fraser senza incidere sulla sua volontà la sua mente rimaneva ancora sotto l'influsso dell'incantesimo ma il suo corpo potente e le membra agili animati da una propria cieca e insensata vitalità resistettero risolutamente per un attimo ebbe la sensazione di assistere come semplice spettatore a una battaglia innaturale tra un intelligenza morta e un meccanismo vivo ma tali sono le fantasie che appartengono ai sogni poi riprese la sua identità quasi rientrando con un balzo nel suo corpo e il suo robusto toma ebbe nuovamente la guida di una volontà determinata attenta e fiera come quella del suo odioso avversario ma quale mortale può lottare con una creatura frutto dei suoi sogni immaginazione creando il nemico è già vinta l'esito della battaglia è la causa stessa della battaglia malgrado gli sforzi malgrado la sua forza e l'agilità che sembravano sprecate nel vuoto sentì le zelide dita che si chiudevano intorno alla sua gola riverso al suolo vide quel viso morto a una spanna dal suo e poi fu il buio un suono come i lontani tamburi un mormorio di voci un acuto grido lontano che rompeva il silenzio e Alpin Fraser sognò di essere morto alla notte calda e limpida seguì un mattino di densa nebbia umida a metà del pomeriggio del giorno precedente un leggero filo di vapore solo un ispessimento dell'atmosfera e l'ombra di una nuvola era stato visto avvinghiarsi al lato occidentale del monte Saint-Hélène sulle aridi altitudini vicino alla vetta era così lieve così diafano così simile a una fantasia resa visibile da far dire guarda presto tra un momento non ci sarà più in un attimo era divenuto visibilmente più esteso e più denso mentre da un lato poggiava sulla montagna dall'alto si allargava sempre di più fino a coprire i bassi pendii contemporaneamente si diffondeva verso nord e sud unendosi alle piccole macchie di nebbia che sembravano uscire dai fianchi della montagna esattamente allo stesso livello con l'intelligente proposito di essere assorbite e così era cresciuto sempre più finché la vetta fu nascosta alla vista della valle e sulla vallata stessa si estese una cappa opaca e grigia a calistoga situata in fondo alla vallata ai piedi della montagna ci fu una notte senza stelle e una giornata senza sole la nebbia abbassandoci nella valle si era allargata verso sud inglobando rence dopo rence e aveva cancellato la città di santelen a nove miglia di distanza la polvere della strada si era depositata a terra gli alberi erano intrisi di umidità e gli uccelli si erano rifugiati in silenzio nei loro nidi mentre la luce mattutina era smorta e spettrale senza colore né luminosità due uomini lasciarono la città di santelen ai primi albori dirigendosi a nord lungo la valle verso calistoga avevano i fucili in spalla ma nessuno che fosse esperto in materia li avrebbe scambiati per cacciatori di uccelli o animali erano un vice sceriffo di napa e un investigatore venito da san francisco si chiamavano rispettivamente holker e yaralson loro compito era una caccia all'uomo quanto è lontana da qui chiese holker e mentre camminavano i loro piedi smuovevano la polvere al di sotto della superficie umida della strada la chiesa bianca solo un mezzo miglio dispose l'altro comunque aggiunse l'altro non è né bianca né una chiesa è un edificio scolastico abbandonato grigio per il tempo e la trascuratezza un tempo vi si celebravano servizi religiosi quando era bianco e c'è anche un cimitero che delizierebbe un poeta sai perché ti ho mandato a chiamare dicendoti di venire subito oh non ti ho mai seccato con domande importune ho sempre visto che al momento giusto diventi comunicativo ma se posso azzardare un'ipotesi direi che vuoi che ti aiuti ad arrestare un cadavere nel cimitero ricordi branscom disse jarlson trattando l'arguzza del compagno con la poca attenzione che meritava l'uomo che tagliò la gola alla moglie per forza ho sprecato con lui una settimana di lavoro e ho pagato anche le spese è una taglia di 500 dollari ma nessuno di noi ne ha ancora trovato trazza non vorrà dire sì è stato sotto il vostro naso per tutto questo tempo la notte viene a rifugiarsi nel vecchio cimitero della chiesa bianca diavolo e dove hanno sepolto sua moglie già avreste dovuto avere abbastanza buon senso da sospettare che sarebbe tornato qualche volta sulla sua tomba è proprio l'ultimo posto dove poteva pensare che sarebbe tornato ma avevate esaurito tutti gli altri posti imparando dal vostro fallimento ho pensato che fosse lì e lo hai trovato dannazione lui ha trovato me quel delinquente mi ha piombato addosso grazie a dio non mi ha fatto fuori è una gamba se hai bisogno di soldi penso che metà della taglia per me sia sufficiente holker rise allegramente spiegò che i suoi creditori mai lo avevano importunato di più desidero solo mostrarti il luogo e fare un piano con te spiegò l'investigatore penso che sarebbe meglio sbrigarsi anche se ancora giorno quel buomo dov'essere pazzo disse il vice scerifo la taglia è per la cattura e la condanna ma se è pazzo non potrà essere condannato holker fu tanto colpito dal possibile fallimento della giustizia che involontariamente si fermò nel mezzo della strada poi riprese a camminare con zelo ridotto già sembra così fa sentire aralson sono costretto ad ammettere di non aver mai visto un essere più ursuto trascurato e sgradevole in ogni cosa all'infuori dei componenti l'antico e onorevole ordine dei vagabondi ma sono venuto ad arrestarlo e non intendo rinunciare comunque per noi ci sarà gloria e fama nessun altro sa che si nasconde da questo lato dei monti della luna va bene disse holker andiamo a vedere questo posto e aggiunse con le parole di un'iscrizione tombale una volta in voga dove tu tra poco giacerai penso se il vecchio branscom si è seccato di te e della tua impertilente intrusione a proposito l'altro giorno ho sentito che branscom non è il suo vero nome e qual è non ricordo ho perso ogni interesse per lui e il nome non mi si è fissato nella memoria qualcosa di simile a pardì la donna alla quale ebbe il cattivo gusto di tagliare la gola era già vedova quando si sposarono era venuta dalla california per cercare un qualche parente esistono persone che fanno cose del genere ma tu sai già tutto certamente non sapendo il nome vero per quale felice ispirazione hai trovato la tomba giusta l'uomo che mi disse il nome disse anche che era inciso sulla pietra tombale ma io non conosco la tomba giusta garalson sembrava riluttante ad ammettere la propria ignoranza su un punto così importante del suo piano ho esaminato il luogo nel suo insieme una parte del nostro lavoro stamattina sarà identificare quella tomba ma ecco la chiesa bianca per un lungo tratto la strada era costeggiata da entrambi i lati da campi ma ora sulla sinistra c'era una foresta di querce padronius e abeti giganteschi di cui si vedeva solo la parte inferiore indistinta e spettrale nella nebbia il sottobosco era folto ma non impenetrabile in tutti i punti per alcuni momenti Holker non vide l'edificio ma quando uscirono dal bosco si rivelò come una pallida molle grigia delineata attraverso la nebbia sembrava enorme e lontanissima dopo pochi passi la videro vicino a portata di mano quasi nera per l'umidità di modeste proporzioni aveva il solito aspetto di tutte le scuole rurali appartenente a quel tipo di ordine architettonico a forma di scatola una base di pietra un tetto coperto da muschio e finestre da lungo tempo prive di vetri e imposte era faticente ma non proprio una rovina un tipico surrogato californiano di quelli che le guide turistiche all'estero chiamano monumenti del passato degnando a malapena di uno sguardo quella non certo interessante struttura jarlson si diresse verso il sottobosco grondante umidità dietro l'edificio voglio mostrarti dove mi ha aggredito disse questo è il cimitero qui e là tra i cespugli c'erano piccoli recinti che racchiudevano le tombe spesso non più di una le sepolture erano riconoscibili dalle pietre scolorite e dalle assi marcite inclinate ad ogni angolazione alcune cadute dai recinti rovina che le circondavano o raramente dai tumuli stessi che mostravano la gaia attraverso le foglie a terra in molti casi nulla segnava il luogo dove giacevano le spoglie di qualche povero mortale che aveva lasciato una vasta schiera di amici in lutto i quali erano stati lasciati a loro volta se non una depressione del terreno più duratura di quella dello spirito di chi ha il lutto i sentieri se sentieri erano stati erano da tempo cancellati alberi di considerevole misura erano stati fatti crescere sulle tombe e le radici e i rami fuoriuscivano dai recinti sopra ogni cosa regnava quell'aria di abbandono e di decadenza che in nessun luogo è così adeguata e significante come in un villaggio di morti dimenticati mentre i due con gli aralsoni in testa si facevano strada attraverso la macchia di giovani alberi quell'uomo intraprendente si fermò di colpo e portò il fucile all'altezza del petto quindi emise una bassa nota di sorpresa poi rimase immobile con gli occhi fissi su qualcosa che gli stava davanti non appena gli fu possibile il suo compagno pur impedito dagli arbusti e benché non vedesse nulla imbracciò anch'egli il fucile e si fermò pronto ad ogni avvenienza un momento più tardi gli aralson prese ad avanzare cauto e l'altro lo seguì sotto i rami di una beta enorme era disteso il corpo di un morto si fermarono in silenzio e notarono i particolari che per primi attirarono la loro attenzione il viso la posizione l'abbigliamento ossia ciò che più prontamente risponde alle domande non pronunciate di una comprensibile curiosità il corpo giaceva disteso sulla schiena con le gambe aperte un braccio era levato l'altro abbassato ma quest'ultimo era piegato e la mano si trovava accanto alla gola ambedue le mani erano fortemente serrate l'atteggiamento d'insieme era quello di una disperata ma inefficace resistenza contro... che cosa? accanto al corpo c'erano un fucile e un carniere attraverso le cui maglie si intravedevano le piume degli uccelli uccisi tutto intorno c'erano le tracce di una lotta furiosa i piccoli rami della quercia nana erano piegati e sfogliati foglie morte e imputridite erano state spinte in cumuli e creste su ogni lato delle gambe dall'azione dei piedi dell'aggressore nel fango lungo i fianchi del morto c'erano poi le inconfondibili impronte di ginocchia umane la natura della lotta appariva evidente al primo sguardo sulla gola e sul viso del cadavere mentre il petto e le mani erano bianche questi erano violacei quasi neri le spalle poggiavano su un basso di alzo e la testa era rivolta indietro con un'angolazione impossibile mentre gli occhi spalancati fissavano vacui una direzione opposta a quella dei piedi dalla schiuma che riempiva la bocca aperta sporgeva la lingua nera e gonfia la gola aveva orribili contusioni non solo segni di dita ma lividi e lacerazioni operate da due forti mani che dovevano essersi affondate sulla carne remissiva mantenendo la loro terribile presa a lungo dopo la morte petto gola viso erano bagnati gli abiti erano fradici gocce d'acqua condensate dalla nebbia costellavano capelli e baffi i due uomini osservarono tutto ciò senza parlare quasi alla prima occhiata poi holker disse povero diavolo una brutta fine jarrison stava facendo un'attenta ispezione della foresta il fucile imbracciato e pronto al fuoco il dito sul grilletto è l'opera di un maniaco disse senza distogliere gli occhi dal bosco circostanze è stato branscom pardii qualcosa semi nascosto tra le foglie spostate sul terreno colpì l'attenzione di holker era un libretto di pelle rossa lo raccolse e lo aprì conteneva alcune pagine bianche con degli appunti e sulla prima pagina c'era il nome helping freezer scritti in rosso sulle pagine seguenti scarabocchiati frettolosamente appena leggibili c'erano i seguenti versi che holker lesse ad alta voce mentre il suo compagno continuava a scrutare i vaghi confini grigi di quel mondo limitato tendendo l'orecchio pieno di apprensione ad ogni goccia d'acqua che cadeva dai rami appesantiti vittima di un misterioso incantesimo rimasi nelle tenebre illuminate di un bosco magico lì il cipresso e il mirto intrecciavano i loro rami significanti in funesta fraternità il meditabondo salice sussurrava parole al tasso sotto la bella donna e la ruta ai sempreverdi s'intrecciavano in bizzarre forme funeree e crescevano orride ortiche non il canto di uccelli o il ronzio di api non foglia leggera stormiva per la salubre brezza l'aria era stagnante e il silenzio era una cosa viva che respirava tra gli alberi spiriti cospiranti sussurravano nella tenebra appena audibili il silenzioso segreto della tomba di sangue erano intrisi tutti gli alberi le foglie brillavano nella luce spettrale con un fiore rosso gritai forte l'incantesimo ancora non spezzato rimaneva sul mio spirito e sulla mia volontà privo d'anima di cuore e di speranza disperato lottavo contro mostruosi presaci avversi infine l'invisibile holker smise di leggere non c'era più nulla da leggere il manoscritto s'interrompeva a metà verso sambra byne disse a yaralson che a modo suo era uno studioso aveva diminuito la vigilanza e in piedi guardava il corpo chi è byne chiese holker piuttosto incuriosito ma iron byne un tizio vissuto nei primi anni di questa nazione più di un secolo fa ha scritto molti versi lugubri ho la raccolta delle sue opere ma questa poesia non c'è deve essere stata omessa per esore fa freddo disse holker andiamocene dobbiamo far venire il coroner da napa yaralson non disse nulla ma fece un cenno di assenso passando oltre il basso rialzo di terra sul quale poggiavano la testa e le spalle del morto il suo piede urtò contro qualcosa di duro nascosto dalle foglie marce della foresta e con il piede lo scoprì era una lapide caduta e incise su di essa c'erano due parole appena decifrabile chatrin larue 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 esclamò holker con improvviso impeto diamine è vero nome di barascom non per di addio mio ora mi torna tutto in mente il nome della donna uccisa era fraser c'è qualche orribile mistero qui disse l'investigatore yaralson odio questo genere di cose arrivò fino a loro dalla nebbia come da un'infinita distanza il suono di una risata una bassa premeditata inespressiva risata che non aveva maggior gaiezza di quella di una iena che si aggira di notte nel deserto una risata che si alzava gradatamente di tono sempre più forte più chiara più terribile e distinta finché parve risuonare vicinissima appena fuori dal loro angolo di visuale una risata così naturale così disumana così diabolica che colmò anche gli animi di quei rudi cacciatori di uomini con un senso di terrore indicibile non presero i loro fucili né pensarono di farlo la minaccia di quell'orribile suono non era di quello che si affrontano con le armi com'era nata dal silenzio così ora svanì con un grido culminante che risuonò quasi nel loro orecchio si affievolì in lontananza finché le sue note deboli gupe meccaniche in ultimo non si fusero con il silenzio